Come vive una star della tv? Ecco la casa di Barbara D'Urso. Sbirciando sul suo profilo Instagram si può notare come il bianco sia un colore piuttosto ricorrente, soprattutto in salotto, dove non mancano foto appese ai muri e un grande specchio dal quale si intravede un importante lampadario. Curiosi sacchi disposti a terra, probabilmente conterranno migliaia di lettere spedite dai suoi ammiratori. La regina della tv ama tenersi in forma anche a casa. Eccola infatti mentre si destregge in esercizi di pilates in un'area dedicata. Non può mancare inoltre un bel selfie mentre fa stretching sul parquet. E dopo tanto esercizio un po' di relax sul divano, prima del momento lavatrice. Barbara ama particolarmente i fiori che non possono mancare nel suo camerino e ovviamente anche nella sua casa. Si intravedono anche in bagno, che sembra sia una sorta di spa. E prima di uscire eccola con un bel selfie per i suoi follower fra marmi rose e specchi. E cosa nasconderà nella sua camera da letto? Semplice, due simpatici e teneri peluche.